Ad avvio della stagione, l'amministrazione di Ischia sta incrementando i posti barca riservati ai residenti a tariffe agevolate. Il sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino, ha chiesto al servizio del demagno marittimo del comune il rilascio della concessione per il tratto di mare Mandra-Spiaggia dei Pescatori, compreso fra il bagno Antonietta e il carcere mandamentale, una superficie di circa 27.000 metri quadri, che, nell'intenzione dell'amministrazione, dovrebbe essere utilizzata come ormeggio stagionale per i residenti nel comune di Ischia da oltre tre anni. La maggior parte degli ormeggi sarà dedicato ai natanti di piccole dimensioni, mentre sul lato esterno di Levante-Frontemare potranno attraccare anche imbarcazioni superiore ai 10 metri. Ma l'incremento del numero di posti barca riservato ai residenti passa anche per gli ampliamenti delle concessioni demagnali rilasciate alla cooperativa Ischia-Barche. Il comune ha infatti approvato la richiesta di ampliamento del tratto di mare in concessione alla Mandra di 12.157 metri quadri rispetto ai 24.335 già concessi e di ulteriori 3.000 rispetto ai 6.400 già concessi nella baia di Carta Romana. Gli ampliamenti approvati sono prioritariamente riservati ai residenti del comune di Ischia da almeno 10 anni. Solo qualora non siano occupati tutti gli spazi disponibili, allora i posti barca potranno essere assegnati ai residenti nell'isola sempre da almeno 10 anni e infine a chiunque ne farà richiesta, anche non residente sull'isola, ma a prezzo pieno. I residenti si aggiudicheranno ai nuovi posti barca, infatti, avranno uno sconto del 50% sulle tariffe del 2016 se residenti nel comune di Ischia, del 30% se residenti negli altri comuni dell'isola. L'assegnazione a prezzo agevolato inoltre potrà riguardare unicamente l'intero periodo che va dal 26 maggio al 15 settembre. I posti di ormeggio disponibili negli ampliamenti sono 30 per i natanti fino ai 6 metri, 15 per i natanti tra i 6 e i 7 metri, 5 per i natanti di imbarcazioni da 7 e 8 metri, 5 per i natanti di imbarcazioni da 8 a 10 metri. Tutte le domande dovranno essere presentate entro il 10 giugno alla società cooperativa Ischia Barche per mezzo di posta prioritaria. Ischia Barche stila una graduatoria e comunicherà agli aventi diritto l'assegnazione del posto barca. L'ubicazione non potrà però essere scelta all'insegnatario ma sarà stabilita direttamente dalla cooperativa. Tutte le domande dovranno essere presentate entro il 10 giugno alla società cooperativa Ischia Barche per mezzo di posta prioritaria. Ischia Barche stilerà una graduatoria e comunicherà agli aventi diritto l'assegnazione del posto barca. L'ubicazione però non potrà essere scelta all'assegnatario ma sarà stabilita direttamente dalla cooperativa.